Il coronavirus sale il numero dei contagiati, 8 solo ieri, tamponi nei 118 di Boiano Agnone Riccia, deceduta l'anziana ricoverata al Cardarelli, oggi è positivo anche un quarto operatore sanitario del 118, 8 casi di pazienti positivi al Neuromed. Isernia riapre il pronto soccorso, ieri era stato chiuso dopo il ricovero di un'anziana positiva al coronavirus, è stato sanificato stanotte intanto positivo anche un uomo di Rio Nero sannitico all'Aquila. La situazione nelle zone rosse a Riccia e Montenero di Bisaccia è scattato il blocco, non si può entrare e uscire dai centri abitati, forze dell'ordine al lavoro per organizzare i varchi d'accesso. Agnone cade l'amministrazione Marcovecchio, si dimettono sette consiglieri comunali che contestano il sindaco assente durante l'emergenza, dicono il primo cittadino si difende dalle accuse. Sport a Isernia, il punto dell'assessore Matticoli, il capologo Pentro tra i primi comuni a sospendere le attività sportive, il rappresentante dell'esecutivo annuncia che sta lavorando per farsi trovare pronti quando l'emergenza finirà. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale ancora l'emergenza coronavirus in apertura, la tanto temuta, purtroppo attesa impennata di casi di coronavirus in Molise è arrivata, da ieri sono aumentati i contagiati e dunque solo nella giornata di ieri otto i casi con i primi positivi al Covid-19 in provincia di Isernia. Tra i positivi di ieri in generale ci sono quattro operatori sanitari, un neurochirurgo che vive a Filignano, che lavora fuori regione e tre operatori del 118 di Boiano che hanno avuto contatti col medico infettato che ha operato a Riccia e poi anche a Boiano appunto è Agnone deceduta. Intanto si è preso questa mattina questa notizia, l'anziana di 84 anni di Campobasso originaria di Riccia ricoverata al Cardarelli e la terza vittima molisana dopo l'anziano di Termoli è quello di Sesto Campano, deceduto però allo Spallanzani di Roma e l'esito dei tamponi sugli operatori sanitari del 118 di Boiano ha dato un altro esito positivo, una situazione dunque che allarma quella dei sanitari contagiati con personale del 118 a Riccia, Agnone e Boiano si attende l'esito di altri tamponi, ne sono stati eseguiti molti, la situazione è fluida in evoluzione, siamo anche in attesa di avere in collegamento il direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano ma al momento evidentemente non può risponderci perché sono in corso riunioni e la situazione è in fase di evoluzione. Intanto è notizia di poco fa, ci sono 8 pazienti positivi al Covid-19 al Neuromed di Pozzilli dove si stanno eseguendo dei tamponi nel reparto di neuro-riabilitazione dove era ricoverato l'83enne Campano, risultato positivo ieri e proprio vi leggiamo il comunicato che ha inviato proprio adesso il Neuromed di Pozzilli dopo l'individuazione del caso Covid-19 positivo del paziente appunto di 83 anni di cui vi dicevamo, l'istituto ha avviato immediatamente un'indagine interna per la rilevazione di eventuali altri pazienti positivi al fine con la collaborazione dell'ASREM e della Direzione Generale della Salute della Regione. Già ieri sono stati effettuati nuovi tamponi su altri pazienti ricoverati nello stesso reparto in rianimazione. I risultati pervenuti oggi hanno evidenziato che tutti i pazienti ricoverati in rianimazione sono negativi mentre solo 8 pazienti della neuro-riabilitazione, scrive sempre Neuromed, sono positivi benché del tutto asintomatici. Considerato che Neuromed è sprovvisto di reparto di malattie infettive in coerenza con il piano organizzativo dei posti letto di malattie infettive adottato con deliberazione ASREM che individua il presidio ospedaliero Cardarelli quale struttura sanitaria deputata alla presa in carico e gestione dei Covid-19 sospetti accertati, la Direzione Neuromed ha immediatamente inoltrato alla Direzione Generale dell'ASREM e agli organi di governo regionale la richiesta di trasferimento urgente dei pazienti Covid-19 positivi anche se ad oggi del tutto asintomatici. Tiene a precisare la nota. Questo istituto conclude sempre la nota del Neuromed in attesa della determinazione di competenza ASREM regione in merito al richiesto trasferimento urgente dei pazienti. Non so se abbiamo il direttore Florenzano o no, allora andiamo avanti con il telegiornale e abbiamo appunto un videomessaggio del sindaco di Oratino Roberto De Socio il quale è un operatore del 118 che è stato a contatto con il medico contagiato che operava a Riccia. De Socio in questo videomessaggio ha detto di aver fatto il tampone e che è negativo ma altri suoi colleghi sono risultati contagiati. Allora sentiamo cosa ha detto De Socio prima di andare nelle zone rosse. Buongiorno, stamattina ho appreso dalla televisione che c'erano dei tamponi per il coronavirus positivi riguardanti i tre medici del 118 di Boiano. Allora essendo io un medico del 118 di Boiano e sindaco di Oratino e avendo avuto varie chiamate da più persone allarmate per questa situazione, appena ho avuto il risultato del mio tampone che è appunto il risultato negativo, ho fatto un video in cui informavo la popolazione. Questo video è stato un po' frainteso perché parlavo sempre di persone positive, in ogni caso al tampone, di 4 persone positive al tampone che però non sono di Oratino, quindi ci tenevo a specificarlo. Purtroppo il fatto che non siano di Oratino, in ogni caso sono persone molisane, c'è un'epidemia in atto e quindi rinnovo l'invito a tutti di seguire le regole ampiamente diffuse su tutti i canali social o da tutti i mass media. E adesso abbiamo con noi il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano, anche oggi ringraziamo per essere con noi perché sappiamo che sono delle giornate molto particolari, abbiamo detto in apertura che insomma c'è stata un'impennata di casi, l'impennata attesa dei casi positivi di coronavirus, c'è stato un decesso dell'anziana questa mattina, c'è stato un nuovo caso positivo ma c'è poi dopo la nota che abbiamo letto ufficiale dell'ASREM, degli 8 pazienti, dell'ASREM scusate, del Neuromed, degli 8 pazienti positivi appunto nell'istituto di Pozziglia. Allora sentiamo i numeri proprio dal direttore Florenzano, buongiorno. Buongiorno a voi, allora io volevo comunicare qualcosa in questa giornata un po' particolare, era una giornata che noi ci aspettavamo e ci siamo attrezzati ovviamente per affrontarla, ora più che mai è importante che tutti i cittadini continuino ad osservare le disposizioni che ci sono perché questo è proprio la metodologia per evitare l'incrementarsi di una situazione. Quindi il mio intervento di oggi, vi scuserete, più che essere il solito... In questa giornata invito ovviamente ad essere razionali perché è qualcosa che ovviamente ci aspettavamo, è qualcosa che dobbiamo affrontare e lo dobbiamo affrontare con la dovuta calma, con la dovuta fermezza e rispettando le regole. Ecco, questo è il suo messaggio, rispettare le regole. Adesso però qualche numero, forse perché la gente comunque vuole essere rassicurata, vuole conoscere la situazione per essere rassicurata. Quali sono questi numeri, dottore? Allora, lo stato attuale abbiamo 41 positivi. Stiamo sviluppando gli ulteriori test, le ulteriori verifiche e stiamo conducendo le indagini epimediologiche per verificare tutta la filiera dei contatti come facciamo ordinariamente. Quindi i numeri di oggi, allo stato attuale, sono questi. 41 compresi gli 8 pazienti del Neuromed. Io su questo argomento voglio precisare che non conosco i contenuti, ho sentito perché ero collegato del comunicato della Neuromed, però come voi sapete io amo essere molto preciso e quindi mi riservo poi di dare una comunicazione più precisa. Credo che, anzi, insieme al Presidente Toma ci sarà un comunicato più dettagliato. Quindi mi riservo di fornire gli ulteriori dettagli, come è giusto che sia, quando faremo questa comunicazione. Ecco, capisce, le faccio questa domanda perché ha detto 41, eravamo rimasti ieri a 33 casi senza considerare i due decessi e nei decessi, inserisco anche l'anziano dello Spallanzani di Sesto Campano. C'è stato anche un decesso questa mattina, quindi i numeri sono lievitati. Significa che ci sono altri operatori sanitari coinvolti, perché comunque c'era anche questa emergenza, che sono molti i medici, i operatori sanitari, comunque risultati positivi anche tra Boiano, la questione di Riccia, che poi è interessato anche Agnone. La questione relativa agli operatori della sanità è molto importante ed è il nostro target che dobbiamo in qualche maniera tenere sempre di riferimento, perché è ovvio che la migliore risposta che noi possiamo dare è quella che diamo attraverso gli ottimi, gli egreggi, e non mi smetterò mai di dire, operatori della sanità. E con ciò mi riferisco non solo ai medici, ovviamente, ma anche a tutto il personale sanitario e anche non sanitario che ogni giorno è qui con me a fronteggiare questa situazione. Io compaio in video e lo faccio anche mio malgrado, perché fondamentalmente sono una persona timida, però mi sento di rappresentare tutti loro in questo momento e quindi veramente le operazioni che noi svolgiamo, anche i tamponi che effettuiamo sugli operatori della sanità, è proprio perché ovviamente dobbiamo tutelare in questo aspetto. Le criticità ci sono, le stiamo affrontando, la criticità alla quale lei fa riferimento ultimamente è quella relativa al 118 di Riccia e al 118 di Boiano. Abbiamo già provveduto a sanificare il 118 di Boiano e ovviamente ci stiamo attrezzando, come giusto che sia, per continuare a fornire l'assistenza sanitaria. Per quanto riguarda il numero dei contagiati, lo so che insisto su questo aspetto, relativamente ai medici, rispetto a ieri, soltanto uno è il medico contagiato in più o ce ne sono altri? No, allo stato attuale è uno solo. Per quanto riguarda invece l'anziano di Termoli, che ieri era morto per una insufficienza di carattere respiratorio, è stato effettuato un tampone post-mortem, ha dato esito questo tampone, cioè si riconosce l'esito del tampone? Non abbiamo ancora l'esito come lo avremo, ovviamente comunicheremo come facciamo sempre, perché i dati che io sciorino a voi sono ovviamente i dati che noi comunichiamo, come è doveroso che sia, anche al Ministero, perché ovviamente è un'emergenza nazionale, siamo in stretto collegamento e noi forniamo i bollettini aggiornati e completi e esaustivi. Bene, grazie, grazie direttore. L'unica cosa all'inizio probabilmente non si è sentito bene, l'appello, se sinteticamente vuole ripetere quell'appello che ha fatto all'inizio, perché so che ci teneva tanto a fare questo appello, a dire quelle parole che ha detto all'inizio e noi lo facciamo anche per gratitudine, perché lei comunque ogni giorno è qui con noi a darci questi dati e sappiamo la situazione, è molto difficile. Io vi ringrazio di questo spazio che mi date. È un appello a tutta la cittadinanza, a tutti i cittadini del Molise, a rispettare le regole, perché rispettando le regole noi supereremo questa emergenza. Se i numeri sono saliti in questa maniera, era qualcosa che noi avevamo purtroppo previsto, ma è importante per mantenere i numeri limitati che tutti siano rispettosi delle regole. Quindi vi ringrazio ancora e l'invito è sempre quello, quello di rispettare lo stare a casa, per essere sintetici, chiari e diretti, e inoltre in caso di sintomi, quello di rispettare i canali che abbiamo predisposto. Cioè bisogna chiamare i numeri che abbiamo messo a disposizione per procedere alle verifiche in maniera idonea e in maniera protetta dei casi che eventualmente dovessimo ulteriormente riscontrare. Vi ringrazio ancora. Grazie, grazie a lei. Buon lavoro, direttore Florenzano e direttore generale dell'ASREM che è stato con noi. Dunque, ripetiamo, quello che ci ha detto anche Florenzano, sono dati importanti, 41 i contagiati in Molise di coronavirus e ci sono più gli otto del Neuromed di Pozzilli come abbiamo anche letto nella nostra nota. Dunque una situazione abbastanza complicata, l'impennata purtroppo di casi positivi c'è stata in Molise. E adesso, come vi abbiamo annunciato, andiamo a Isernia, nuovo caso di coronavirus in provincia di Isernia, un uomo di Rio Nero Sannitico ricoverato all'Aquila. Il risultato positivo, intanto il pronto soccorso del Veneziale ha riaperto al pubblico ieri sera, lo ricorderete, era stato chiuso. Dopo il ricovero della paziente di Monteroduni, risultata positiva al Covid-19. Ma sentiamo le ultime novità dalla nostra redazione di Isernia con Sergio Di Vincenzo. Un'altra persona è risultata positiva al coronavirus in provincia di Isernia. È un uomo di 59 anni, di Rio Nero Sannitico. La settimana scorsa si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Casteldisangro per altri problemi di salute. Trasferito all'Aquila, il tampone aveva dato esito negativo. Oggi invece un nuovo test ha riscontrato la presenza del coronavirus. L'uomo resta dunque ricoverato in Abruzzo. Le sue condizioni di salute sono buone. I suoi familiari, con grande senso di responsabilità, sin da subito si sono messi in quarantena. Intanto, dopo le ore di tensione vissute ieri sera con il ricovero dell'anziana di Monteroduni, risultata anch'essa positiva al coronavirus, al pronto soccorso di Isernia si cerca di tornare alla normalità. Dopo gli interventi di sanificazione dei locali, il servizio dell'emergenza del Veneziale è stato riaperto. Il responsabile Lucio Pastore ha spiegato cosa è accaduto. Il paziente era allettato da molti giorni senza febbre, ha scritto su Facebook e il collega ha ritenuto impossibile un collegamento con il Covid-19. Per questo motivo non lo ha portato a malattie infettive di Campobasso, ma a Isernia. Fatta la tacca e la saturometria, abbiamo avuto il dubbio dell'errore e abbiamo chiesto il tampone. Ci dispiace, ha aggiunto, di non essere riusciti a intercettare questo paziente. continueremo a lavorare, ampliando anche ai pazienti del 118 le precauzioni che prendiamo per gli altri. Da stamattina, comunque, il pronto soccorso è di nuovo operativo. È di nuovo operativo, perché è stato sanificato. Tutti noi che siamo entrati in contatto usiamo queste precauzioni in più, sia nel lavorare che a casa. Controlliamo la febbre ed eventuali sintomi. Quindi in assenza di questo continuiamo a lavorare perché non c'è personale. se ci dovesse essere necessità, dovremmo allontanare. Per cercare di garantire maggiore sicurezza, il pronto soccorso di Isernia è stato riorganizzato così. In pratica avremo un'entrata di tutto esterno e non contaminante e qui possiamo gestire molto meglio i pazienti dove metteremo anche un apparecchio radiologico per evitare di contaminare il resto della struttura. Abbiamo avuto anche l'autorizzazione a poter fare anche dei tamponi, cosa che fino a poco tempo fa non era possibile. Quindi la situazione è in evoluzione. Cerchiamo di adattarci a questo nuovo evento. Ci deve essere qualche focolare in provincia che va individuato, perché è strano quello che sta succedendo. Ai Serglie intanto, il Comune ha fatto girare un'auto munita di altoparlanti per lanciare l'ennesimo appello e cioè di restare chiusi in casa. Si invita e si raccomanda di rimanere in casa ed uscire solo per assoluta necessità, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assombramenti o nuove o di macchina. In questi giorni i volontari e forze dell'ordine continuano a dare assistenza agli anziani e alle persone che non possono uscire, consegnando la spesa ai farmaci direttamente a domicilio. E dunque da ieri sera anche in Molise ci sono delle aree dalle quali non si può entrare e uscire. Le zone rosse sono quelle di due comuni, Riccia e Montenero di Bisaccia, come ha stabilito il governatore Toma. Ci colleghiamo allora con questi due comuni per vedere qual è la situazione. Partiamo da Riccia, dove si trova Enzo Luongo. Enzo, a te la linea. Sì, Tonino, buongiorno. Buongiorno da Riccia, che insieme a Montenero di Bisaccia, come dicevi anche tu, è uno dei due comuni del Molise che da ieri sera sono zona rossa. Se possibile dunque un centro abitato ancora più desolato rispetto agli altri del Molise che in questi giorni sono tutti con le strade vuote, con pochissima gente in giro. Qui da ieri sera non si può più né entrare né uscire, non è possibile allontanarsi dal paese né arrivare. Noi siamo all'entrata di Riccia, da qui in poi saranno messi dei varchi, controllati dalle forze dell'ordine. Proprio stamattina c'è stata una riunione per organizzare i presidi di ingresso e uscita dal centro abitato. Dunque non si può passare. Diciamo che il paese è deserto, c'è molta preoccupazione, anche dopo questa decisione, di istituire un'ulteriore misura restrittiva per due comuni del Molise, dove evidentemente ci sono due situazioni particolarmente delicate. Ricordiamo qui a Riccia il caso del medico del 118, che lavora anche al 118 di Riccia, risultato positivo al coronavirus. Tutti si chiedono in paese chi ha incontrato questa persona, chi ha visitato nei giorni in servizio dopo che aveva contratto il virus. Noi stamattina abbiamo incontrato il sindaco di Riccia, Pietro Testa. Vi mandiamo l'intervista. Sindaco, primo giorno con Riccia, zona rossa, quindi non si può né entrare né uscire. Come ha reagito la popolazione? La popolazione è molto rispettosa delle regole. Pensate che oggi è la festa più dell'accoglienza. È la festa che sarebbero venute tante persone a Riccia e sarebbero state ospitate nelle case per San Giuseppe. Avendo chiuso il paese, proprio in questo giorno, insomma, è pesante. Senta, chiaramente molti sono preoccupati perché c'è questa vicenda del medico che ha prestato servizio qui a Riccia. Avete cercato anche voi di ricostruire un po' i contatti. Ci sono tante le persone che hanno avuto contatti con questo operatore sanitario o no? Sì, abbiamo ricostruito anche noi. Per fortuna in questi giorni è stato poco affollato il 118, quindi alcuni turni non è andato nessuno. Stanno in quarantena gli operatori, collaboratori del 118, però di persone visitate ne sono veramente pochissime. In alcuni turni non è andato proprio nessuno. E questo ci fa ben sperare. Quante persone avete attualmente in quarantena qui a Riccia? Attualmente ne abbiamo più di 60 in quarantena perché tra la famiglia del primo contagiato e poi questo del 118 abbiamo più di 60 contagiati e qualcuno che è venuto da fuori si è messo in quarantena. Ma oggi è come se siamo tutti in quarantena. Sindaco, lei ha accennato poco fa al fatto che questa giornata triste per Riccia coincide con la festa più sentita che è quella di San Giuseppe. Qual è lo stato d'animo suo dei suoi concittadini visto che Riccia oggi è praticamente una città deserta? Beh, praticamente io sono uno di quelli che faceva la festa. Forse uno di quelli più numerosi perché la mia famiglia è grande e molti amici. Noi oggi dovevamo essere circa 40 persone a tavola. Non la facciamo, siamo solo in famiglia. Io non so, credo che non riesco ad andare a Pralto. Un'ultima cosa sui controlli. Chiaramente sarà anche difficile gestire la situazione perché con Riccia, zona rossa, non si può né entrare né uscire. Quindi avete sicuramente chiesto aiuto anche alle altre forze dell'ordine. Sì, ovviamente c'è la prefettura che abbiamo fatto una videoconferenza terminata poco fa e sarà la questura a gestire il tutto, a gestire i controlli e i presidi sugli ingressi. Dunque queste le parole del sindaco di Riccia Pietro Testa che parlava anche del fatto che qui oggi a Riccia è la festa più importante del paese, quella più sentita, più celebrata dalla popolazione, la festa di San Giuseppe con tutto un rito, una tradizione che si ripete nelle case e oggi invece il clima è totalmente diverso. Questo rende ancora più triste, se possibile, la situazione e lo stato d'animo di questa comunità così colpita da questa emergenza. Io, se non ci sono domande, Tonino, ti restituisco la linea. Grazie. Grazie, Enzo. E allora noi da Riccia ci spostiamo a Montenero di Bisaccia che è l'altra zona rossa dove c'è Fabrizio Occhionero. Fabrizio, a te la linea. Sì, Tonino, buongiorno da Montenero di Bisaccia. Buongiorno da una delle strade di accesso al paese. Un comune in sostanza blindato dopo l'ordinanza emessa dal governatore Donato Toma che fa diventare tutta Montenero in zona rossa. Questo che significa che nessuno può entrare e nessuno può uscire dal paese a causa dell'emergenza legata proprio alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19. In particolare, voglio leggere proprio quanto è stato riportato nell'ordinanza e quindi la nota dell'ASREM in cui si evidenzia che particolarmente preoccupante è la persistenza di un cluster di infezione nel comune di Montenero di Bisaccia considerata la data di comparsa dei primi positivi, la durata del periodo di incubazione della malattia e l'adozione delle previste misure di sorveglianza attiva e di isolamento domiciliare adottate dal Dipartimento Unico di Prevenzione. Leggo anche un altro passaggio proprio per precisione e cioè che tale situazione in considerazione della potenziale presenza nella popolazione di Montenero di casi asintomatici documenta la necessità di garantire una più rigorosa aderenza da parte dei cittadini alle misure di contenimento e restrizione già in atto e l'implementazione di ulteriori strategie volte ad evitare oppure a contenere la diffusione dei contagi nel territorio limitrofo viste le tempistiche per l'acquisizione degli esiti dei tamponi sui contatti dei tamponi positivi. Questa quindi la motivazione adottata dall'ASREM è contenuta nell'ordinanza firmata da Toma. Lo ribadiamo, nessuno può entrare, nessuno può uscire da Montenero se non per i casi strettamente necessari. Quali sono? Sono le eventuali emergenze sanitarie e poi i servizi pubblici essenziali. In paese, lo ricordiamo, sono sospesi anche gli uffici pubblici ma non le attività che consentano ai cittadini di fare la spesa o comunque richiedere dei servizi indispensabili. Tutto questo è molto importante ribadirlo ma anche ricordare ai cittadini che devono restare a casa, uscire solo se strettamente necessario in paese per i vari servizi e poi rispettare tutte le misure già imposte dal sindaco Nicola Travaglini. Il primo cittadino ha coordinato anche questa mattina un tavolo di operativo con le forze dell'ordine, con i carabinieri, la polizia per stabilire anche come gestire i vari posti di blocco in paese ed evitare anche uscite ed ingressi che non sono autorizzate. Sono delle misure molto urgenti, stringenti ma necessarie per contenere il contagio, prevenire il rischio e quindi evitare ulteriori problemi non solo a Montenero ma anche sul territorio. Si aspetta chiaramente anche l'evoluzione della mappa del contagio non solo in paese ma anche sull'intero Basso Molise sperando che tutte le misure adottate non solo a Montenero ma anche negli altri comuni siano sufficienti a limitare questa diffusione sul territorio. L'altro aspetto allargandoci proprio al territorio del Basso Molise al comparto produttivo è quello che riguarda la presenza di fabbriche molto grandi di come la Fiat e ce ne siamo occupati anche negli altri collegamenti. Questa mattina è partita una lettera a firma del sindaco di Termoli il presidente della provincia Francesco Roberti condivisa con gli altri amministratori che sono stati coordinati in questa mobilitazione dal sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagono. Questa lettera è stata inviata non solo al governatore Toma ma anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. in sostanza si chiede di sospendere l'attività in tutte le fabbriche che non producono beni generi alimentari oppure beni di prima necessità. Il riferimento quindi è alla Fiat ma anche ad altre aziende presenti sul territorio dove lo sappiamo i dipendenti, i lavoratori sono tantissimi sono più di 3.000 se consideriamo solo la Fiat e l'indotto. E si evidenzia nella lettera di Roberti e degli amministratori anche questo paradosso cioè i ragazzi, le scuole sono chiuse e devono restare a casa ma i loro familiari vanno a lavorare quindi potenzialmente se non vengono rispettate tutte le misure di precauzione sono esposti anche a possibili rischi di contagio. Da qui la richiesta di sospendere le attività. Questa quindi la situazione in Basso Molise per quanto riguarda il comparto produttivo. Ultimo aspetto quello dell'ospedale Santimoteo riaperto da ieri dopo 13 giorni di chiusura forzata le attività stanno riprendendo gradualmente l'utenza chiaramente è centellinata e poi c'è la tenda per il pretriage montata al parcheggio del pronto soccorso dove vengono filtrati tutti gli eventuali accessi per qualsiasi emergenza. Si aspettano novità anche altri approfondimenti che vengono fatti sul territorio e se non ci sono domande da studio io, Tonino, restituisco la linea a te a Campobasso da una Montenero che ribadiamo blindata. Nessuno può accedere e nessuno può uscire da questo comune. Grazie Fabrizio. Nessuna domanda. Hai detto praticamente tutto quello che c'era da dire. Grazie Fabrizio. Emergenza Covid non c'è più tempo, ecco cosa si deve fare. Michele Iorio, consigliere regionale ma anche medico che prende posizione sull'emergenza coronavirus in Molise lanciando un appello ma soprattutto dando indicazioni precise. Per l'ex governatore, il presidente della regione deve emanare un'ordinanza che consenta di riutilizzare come ospedale i centri di Larino e Venafro da destinare esclusivamente al trattamento del Covid-19. è necessario chiedere anche la disponibilità a tutte le strutture private del Molise in particolare a Neuromed e Cattolica, gemelli Molise perché anche i loro professionisti si mettano a disposizione delle strutture che gestiranno l'emergenza. È necessario procedere senza indugio ad eseguire i tamponi a tutto il personale sanitario compresi i farmacisti e i pazienti già ricoverati negli ospedali allo scopo di avere una mappatura per individuare possibili focolai di infezioni per gli asintomatici. Infine, assumere subito un numero sufficiente di infermieri. Ha concluso Michele Iorio. Riaprire subito l'ospedale di Menafro. La terapia intensiva è ancora funzionante. Dispone di cinque posti. Letto questo in sintesi l'appello ancora del sindaco Alfredo Ricci lanciato in una lettera inviata al ministro della Salute Speranza. Il servizio è ancora di Sergio Di Vincenzo. Il sindaco di Menafro non molla. Il Santissimo Rosario deve essere riaperto subito. La terapia intensiva mai dismessa è perfettamente funzionante e può garantire sin da subito cinque posti letto. Questo in sintesi l'appello rivolto da Alfredo Ricci al ministro della Salute Roberto Speranza, al capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e al commissario straordinario Domenico Arcuri. La situazione si sta facendo sempre più difficile anche in provincia di Sernia e dunque non si può perdere altro tempo. Sollecito l'immediata riapertura del Santissimo Rosario. L'unità di crisi lo ha deliberato nella riunione del 12 marzo ma è diventata un'esigenza impellente rispetto alla quale sono portavoce dei sindaci della nostra provincia e dei cittadini dei nostri territori perché oggi è indispensabile riattivare questo ospedale, questa struttura per poter fare fronte ad ogni emergenza. In questo senso nell'unità di crisi regionale se ne è discusso ulteriormente, anche nella riunione di ieri però evidentemente dobbiamo accelerare. Il caso di ieri che si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale di Sernia ci ha insegnato che non possiamo trovarci con le spalle scoperte laddove dovesse verificarsi una situazione di ulteriore emergenza. Su questo siamo in contatto anche con il sindaco di Larino con il quale evidentemente stiamo condividendo come abbiamo fatto già in passato questa esperienza. Non si tratta di una questione campanilistica in realtà non lo è mai stata non lo è soprattutto in questo momento. Come ho spiegato al ministro Speranza nella mia nota il diritto alla salute è mai come in questo momento è un diritto costituzionale che deve essere garantito a tutti i costi e con tutti i mezzi. Intanto il sindaco di Venafro ha adottato nuovi provvedimenti per tentare di ridurre i rischi di contagio in città. Il governo aveva lasciato aperti i bar delle stazioni di servizio ho ritenuto di doverli chiudere perché dopo aver fatto intervenire diverse volte in attività di controllo la polizia municipale dopo avere quindi riscontrato che dinanzi a questi bar sostavano non soltanto gli automobilisti di passaggio ma che si rischiava di rendere appunto queste attività un luogo di frequentazione quasi quotidiana ecco ho creduto di doverne disporre immediatamente la chiusura. Ho bloccato su tutto il territorio comunale la possibilità dei giochi cosiddetti a vino. E alcuni specialisti del Gemelli Molise hanno pensato di fabbricare dell'ottimo prodotto antisettico esattamente uguale a quello che si trova in commercio la ricetta è stata fornita dall'ordine dei farmacisti e rispetta perfettamente le linee guida ministeriali le apparecchiature in dotazione nei laboratori della farmacia hanno permesso di realizzare un composto sicuro e allo stesso tempo funzionale alle esigenze del momento si riesce in questo modo a generare una quantità rilevante di gel disinfettante al punto che il personale ha pensato di donare alcuni flaconi alle parrocchie di Campobasso e alla Caritas dunque un bel gesto. Mino Dentizi, medico geriatra, da sempre impegnato in prima linea a sostegno degli anziani anche nelle strutture di accoglienza in questo video messaggio che vedremo destinato agli anziani e anche agli operatori delle diverse strutture spiega come affrontare il coronavirus con la giusta serenità e i rischi a cui si va incontro nelle case di riposo dove non fossero rispettate con cura le misure preventive. Sentiamo. Oggi tutti parlano di Covid-19 più comunemente chiamato coronavirus e tutti quanti afferrano che il coronavirus colpisce soprattutto le persone anziane ed è vero perché gli anziani sono più fragili gli anziani hanno le visi immunitarie abbassate gli anziani hanno tante patologie croniche ma noi possiamo fare in modo che anche i soggetti fragili anziani non siano colpiti dal coronavirus come? Tenendolo lontano da noi gli anziani che stanno bene devono fare in modo di non uscire assolutamente dalla propria abitazione di restare a casa e di non fare entrare nessuno nella casa propria né un figlio né un parente né un amico in questa maniera la nostra casa diventerà un bunker antivirale che nessuna bomba coronavirus potrà scalfire seconda raccomandazione è quella di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi strofinandole accuratamente terza raccomandazione è quello di pulire spesso le superfici della propria abitazione utilizzando possibilmente detergenti a base di cloro e di alcol quarta raccomandazione è quella di avere un'alimentazione sana un'alimentazione corretta soprattutto incrementando l'uso di verdure e frutta in questa maniera rafforziamo il nostro sistema immunitario poi ci sono gli anziani che vivono in strutture residenziali che vivono nelle case di riposo nelle RSA anche qui dobbiamo dare delle indicazioni che si devono assolutamente rispettare la prima cosa che bisogna fare nessuna persona deve entrare all'interno della casa di riposo cioè non deve entrare nessun familiare nessun parente a trovare gli anziani che sono all'interno della casa di riposo all'interno della casa di riposo deve entrare soltanto il personale stesso della casa di riposo oppure in case di necessità medici o specialisti esterni e dobbiamo fare in modo che anche gli anziani non escono più dalla casa di riposo dobbiamo sospendere tutte le visite specialistiche che erano state proclamate fuori dobbiamo sospendere all'interno della casa di riposo tutti gli eventi comunitari le feste di compleanno le cerimonie religiose eccetera e soprattutto raccomandiamo agli operatori della casa di riposo di osservare tutte le norme igieniche previste da qualsiasi regolamento di osservare l'uso dei strumenti di protezione individuale e soprattutto gli raccomandiamo di osservare le norme previste per non contrarre il coronavirus anche al di fuori della casa di riposo cioè anche quando vanno nelle loro abitazioni anche quando frequentano altre persone grazie perché se osserviamo tutto questo il coronavirus ci fa un baffo la radio per l'italia domattina il flash mob sonoro che riunisce le emittenti italiane concretamente alle 11 tutte le emittenti aderenti alla radio per l'italia trasmetteranno in contemporanea in fm ma anche in dub tv e in streaming sui relativi siti e app l'inno di mameli seguito da tre canzoni che fanno parte della nostra storia musicale si tratta di azzurro di adriano celentano la canzone del sole di lucio battisti nel blu dipinto di blu di domenico modugno aderisce all'iniziativa anche la nostra radio luna network e con l'emergenza sanitaria in corso si aggravano anche i problemi di un settore già in crisi come quello nostro quello dell'editoria noi che siamo anche in prima linea per garantire l'informazione mai come in questo momento è invece fondamentale un'informazione di qualità e attendibile ha detto il presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro intervistato da Enzo Luongo Giuseppe Di Pietro questa emergenza sanitaria italiana ma anche mondiale crea difficoltà tutta l'economia ma un settore molto colpito è proprio quello dell'editoria il nostro settore in particolare quello dell'editoria locale sono state varate delle misure di sostegno sono sufficienti o no secondo lei ma è una prima risposta sulla quale noi diciamo che siamo moderatamente ottimisti anche diamo un giudizio positivo si parla anche di freelance si parla di co 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 e del sistema radio televisivo locale che deve essere sostenuto come riconosciuto dal dal sottosegretario all'editoria quindi almeno per il momento ecco insomma è un provvedimento di emergenza che può bastare senti ai momenti come questo si nota ancora di più l'importanza di una informazione di qualità di notizie certificate è così? certo è stato più volte ripetuto sia da chi gestisce l'emergenza ma ormai è un dato di fatto sui social se si assiste a di tutto di più insomma a notizie che sono vere e proprie bufare c'è bisogno che mai come in questo momento invece di un'informazione che venga certificata da personale che è tutelato a farlo e come nel caso dei giornalisti venga da fonti qualificate venga verificata e questo fa parte della filiera dell'informazione professionale di qualità questo è il momento in cui ci accorgiamo dell'importanza ma non solo anche della come dire di una filiera che va tutelata e va tenuta in debita considerazione questo vale anche per le istituzioni bisogna affidare la comunicazione a dei professionisti del settore ma certamente noi qualche giorno fa abbiamo per esempio fatto l'appello partendo dall'Asrem non è solo chi fa informazione a livello finale che deve essere un professionista ma anche chi la fa a monte e beh affidare l'informazione a un giornalista è una cosa affidarla a persone che non hanno come dire competenze nel settore è un'altra è di ieri la notizia che il ministro dell'interno ha richiamato ad esempio i sindaci a non dare informazioni sui pazienti perché si viola la privacy non dare l'età non dare notizie che possono in qualche maniera ricondurre alle persone questo per esempio è un problema che un professionista un giornalista sa perché per mestiere per deontologia ha conoscenze di queste cose mentre un'altra un sindaco o chi fa un altro mestiere queste cose non le sa un'ultima cosa è un momento difficile anche per i giornalisti che sono in prima linea e quindi lavorano tra mille difficoltà per le restrizioni che sono state imposte il mio appello la raccomandazione è a essere molto prudenti ma vedo che insomma in linea generale questa cosa è già molto diffusa nessun contatto se è possibile tenere separata anche nelle redazioni vari ambienti in maniera tale che ove mai ci fosse un caso le altre possono funzionare non per esempio arrivare poi a situazioni limiti come nel caso della RAI o della stampa che hanno dovuto chiudere tutta la redazione quindi mi sembra come mi è stato spiegato già anche Telemolise applica in maniera coerente e molto puntuale i protocolli quindi la raccomandazione vale ovviamente per tutti Rosanna Colecchia docente del liceo scientifico Alfano di Termoli ha affidato a Facebook alcune riflessioni sull'attuale situazione soprattutto la situazione in cui si trovano ad operare adesso gli insegnanti e gli alunni che fanno lezione usando il computer e usando la tecnologia la rete internet in un mare magnum di limitazioni ha scritto sul suo profilo social Rosanna Colecchia giuste e responsabili col fine di salvaguardare l'incolumità della salute pubblica la scuola va avanti i docenti si attrezzano si reinventano si mettono in discussione combattono con i giga e la connessione pur di garantire il sacrosanto diritto all'istruzione e voi alunni è l'interrogativo dell'insegnante Rosanna Colecchia rivolto proprio agli alunni e ai ragazzi sempre tutti presenti ha continuato attenti e disponibili desiderosi di continuare a imparare a voi che siete la nostra quotidiana normalità a voi che ci fate sentire indispensabili a voi che davvero siete la speranza di un domani migliore a voi ha concluso Colecchia nel suo messaggio va il nostro ringraziamento più affettuoso e sincero grazie ragazzi grazie di cuore per il solo fatto di esserci ad maiora in questo momento in questo momento di emergenza sanitaria la chiesa promuove una preghiera per tutto il paese questa sera alle 21 si potrà recitare il rosario da casa unendosi simbolicamente a Papa Francesco e a tutte le famiglie italiane chi lo vorrà potrà anche esporre un drappo bianco o una candela accesa alla finestra e andiamo adesso ad Agnone come abbiamo detto nei titoli dove in seguito alle dimissioni di sette consiglieri è caduta l'amministrazione comunale guidata da Lorenzo Marcovecchio sentiamo ancora Sergio Di Vincenzo dopo quasi quattro anni termina l'esperienza amministrativa di Lorenzo Marcovecchio al comune di Agnone questa mattina infatti sette consiglieri hanno protocollato le loro dimissioni oltre agli esponenti della minoranza Saia, Catauro, Sabelli e Scarano hanno presentato le dimissioni due ex assessori Marcovecchio e Melloni che già da tempo avevano preso le distanze dalla maggioranza e il consigliere Cellilli la crisi era nell'area già da qualche mese è vero ma finora i numeri avevano permesso di amministrare la notizia dunque colto un po' tutti di sorpresa compreso l'ormai ex sindaco Sì, questa mattina sono state protocollate le dimissioni della maggioranza più di tre consigliere della minoranza più di tre consiglieri della maggioranza quindi è decaduto il consiglio quindi con tutte quante le figure connessi del sindaco e quant'altro una notizia come dire un fulmine a ciel sereno se l'aspettava o qualcosa era già nell'aria No, mi mancava la settima potevo immaginare le sei posizioni non aveva avuto contezza ne ero stato avvisato delle intenzioni del settimo consigliere e questa mattina insomma ho visto qui la fila al comune per protocollare le dimissioni stavamo sinceramente stavamo in fase stiamo in fase di emergenza quindi eravamo impegnati in tutt'altro stavano montando eravamo riusciti ad ottenere anche la la tenda per triage all'ospedale quindi stamattina stavamo vedendo per questa cosa qui con la protezione civile stavamo facendo delle ordinanze sempre per per gestire questa emergenza e invece c'è stata questa questo ulteriore questo ulteriore terremoto ne prendiamo atto poi ripeto forse non era opportuno in un momento particolare però poi ognuno risponde alla sua coscienza insomma è lì dove la politica non comprende non capisce queste queste situazioni ne prendiamo atto il comune va avanti ci mancherebbe non è nato di Colorenzo Marcovecchio né finire da Colorenzo Marcovecchio si trovava in bicicletta nella zona di Via Lissa Termoli quando sembra a causa di un malore finito a terra ed è morto a chiamare i soccorsi sono stati volontari dell'associazione Arca ma per l'uomo di 57 anni non c'è stato nulla da fare sul posto il 118 e i carabinieri e oggi ricorre il 25ennale della posa della prima pietra della cattolica oggi Gemelli Molise il 19 marzo del 1995 San Giovanni Paolo II giunse sulla collina di Monte Vairano a Campobasso per benedire la prima pietra 11 anni dopo la struttura venne solennemente intitolata al nome del pontefice le buone pratiche cliniche assistenziali e gestionali sviluppate hanno fatto sapere dalla Gemelli Molise diventano modelli per tutte le strutture ospedaliere collegate il luogo ecco vedete intanto le suggestive immagini di quel 1995 quando San Giovanni Paolo II arrivò appunto a Campobasso per la posa della prima pietra del Gemelli diciamo luogo in cui competenze scientifiche tecniche sensibilità umana etiche e valori cattolici diventano un impegno concreto per cure eccellenti accessibili all'intera comunità ha concluso la nota del Gemelli Molise dunque siamo alla fine del telegiornale ricapitoliamo quanto abbiamo saputo dalla voce del direttore generale dell'ASREM florenzano inizio TG i contagiati di coronavirus in Molise sono arrivati a 41 e inoltre 8 pazienti positivi del covid-19 si trovano ricoverati al neuromed in attesa di essere trasferiti al cardarelli al momento non si sa se queste 8 persone facciano parte o meno dei 41 complessivamente conteggiati o siano altri nuovi 8 casi ovviamente vi aggiorneremo nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti